All'estate diciamo che è partita con difficoltà, ammetto il lockdown e il covid l'abbiamo pagato un po' tutti. Fortunatamente dopo una difficoltà appunto del mese di giugno abbastanza importante, luglio è andato molto bene. Agosto ci sono buonissime prospettive, le prenotazioni ci sono, stanno arrivando, quindi io penso che se anche il tempo ci dà una mano, con giornate come quella di oggi, riusciremo a fare anche un buonissimo agosto. Il Carpegna Art è una mostra dedicata agli artisti di Carpegna e del Monte Feltro. Questa mostra è allestita all'interno di Palazzo dei Principi, quindi ha una cornice molto suggestiva e è una mostra interessantissima, io consiglio di visitarla. Andrà avanti, iniziata il primo di agosto, andrà avanti fino al 30 di agosto. Oltre a questo c'è l'iniziativa del Carpegna Holiday con visite a Palazzo dei Principi organizzate nei giorni di giovedì mattina e domenica mattina e venerdì in notturna. Consiglio la notturna perché è molto suggestiva e la visita di Palazzo dei Principi è molto interessante. Considerate che è una residenza del 1700 completamente arredata, quindi ha tutti gli arredi dell'epoca e tra l'altro la famiglia Falconieri ci ha dato questa possibilità e all'interno spesso ci sono anche i Principi che ci accompagnano nella visita, quindi veramente molto interessante. Io consiglio assolutamente di fare sia la visita sia di visitare la mostra. Poi c'è un fitocalendario di eventi che si chiama Carpegna Cultura e questi eventi avvengono soprattutto nella prima serata e durante tutto il mese di agosto, quindi anche questi sono momenti interessanti per vivere Carpegna.